amiche amici bianconeri bentrovati buon sabato 22 gennaio a tutti sono questi gli attimi nel corso dei quali massimiliano allegri sta tenendo la conferenza stampa di presentazione del big match milan juventus che si giocherà domani sera alle 20 45 lo stadio di san siro ma il video di oggi avrete visto il titolo è l'offerta va a completamento di quanto vi ho raccontato ieri nel video bomba quella relativa sganciata dalla ottima professionista di cui nutro grande stima tendo a sottolinearlo per l'ennesima volta fabiana della valle in merito al possibile approdo di dusan vlaovic già nella sessione invernale alla juventus nel ringraziare tutti quanti coloro hanno seguito il video che hanno dato fiducia al canale che si sono iscritti invito a chi fosse oggi all'ascolto ad iscriversi al mio canale youtube tenendo assenata la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i futuri contenuti che pubblicherò su questo canale e in fondo la puntata mi raccomando mettete like al video questo ovviamente vale per chi coloro ancora non fosse iscritto al mio canale youtube detto questo dopo aver parlato della bomba quindi della proposta della juventus che sarebbe nell'ordine di 35 milioni cash più il cartellino di Dejan Kuluseski oggi voglio completare il video con l'offerta quella che è stata riportata verificata dall'ottimo estimato professionista nonché giornalista e franco leonetti con il quale ho avuto il piacere di conferire e con il quale appunto ho avuto il piacere di confrontarmi ieri nel corso della trasmissione su radio bianconera franco ha riportato che la juventus avrebbe fatto ricapitare alla fiorentina una proposta da 60 milioni di euro cash più bonus quindi senza contropartite tecniche che ovviamente mettono a questo punto la fiorentina di avere sostanzialmente il cerino in mano la situazione è delicata la juventus ci prova e ci proverà ci sta provando veramente forte anche per questa sessione invernale mancano nove giorni alla chiusura del mercato questo porta ancora una volta a pensare il sottoscritto che sia un'operazione difficilissima da poter realizzare in questa sessione di mercato invernale ma non fa altro che avvalorare quello che da tempo vi dico che Dusan Vlaovic resta e resterà il primo obiettivo per il rafforzamento dell'attacco bianconero per la prossima stagione la fiorentina come dicevo ha il cerino in mano o meglio in questo momento ha diciamo un è di fronte ad un bivio accettare la proposta della juventus che si avvicina a quelle che sostanzialmente sono le richieste del club viola ben conscio che da giugno o meglio da luglio in poi la possibilità di arrivare alle stesse cifre non ci sarà perché saremo a meno di un anno dalla scadenza del contratto e quindi il cartellino giocatore porterà perderà inevitabilmente valore e quindi porterà la fiorentina a dover rinunciare qualora non accettasse la proposta bianconera adesso a rinunciare a una decina di milioni come minimo è chiaro ed evidente che commesso che ha giocato d'anticipo lasciando intendere che la sua volontà è quella di cedere e sarebbe effettivamente reale la sua volontà di cedere il giocatore ad un club all'estero proprio per evitare sono mosse di piazza e questo è in questo momento con in mano una patata veramente bollente saranno bollenti giorni post milan juventus ma la patata nelle mani di commesso è certamente bollente perché l'offerta così come mi è stata confermata dall'ottimo franco è un'offerta congrua importante e che non può non portare la fiorentina a fare delle valutazioni in considerazione del fatto che dusan vlaovic accetterebbe il trasferimento a stagione in corsa solo ed esclusivamente per la juventus questo ovviamente pone lo stesso dusan vlaovic con la responsabilità sulle spalle perché qualora la fiorentina accettasse vorrebbe dire che commesso sarebbe stato messo nella condizione di dover accettare l'unica proposta congrua e l'unica proposta effettiva in considerazione del fatto che lo ribadisco dusan vlaovic ha assolutamente detto no all'arsenal ha detto assolutamente no ad un trasferimento all'estero verissimi sono gli incontri tenutisi compresa la cena tra che rubini e uno degli agenti di dusan vlaovic dark oristic di cui vi ho riferito anche nel video di ieri e ovviamente nel corso di quella cena non si può che essere parlato di quella che era l'intenzione della juventus che sta venendo a galla sta sfociando in un'offerta già per l'acquisizione nel corso di questa sessione invernale ribadisco quello che è il mio possesso ovvero l'informazione che risale ancora alla proposta di contratto 5 e mezzo più bonus per arrivare intorno ai 6 fatta ad usan vlaovic accettata questo significa e lo spiego per chi eventualmente ha fatto domande sotto il video di ieri e per chi eventualmente avesse il dubbio volesse farlo ancora significa che in questa proposta accettata rientrano anche le commissioni per gli agenti di conseguenza questo è quello che mi risulta se poi nel corso della cena il l'ingaggio è stato ritoccato al rialzo a me personalmente non è dato sapere ma è dato sapere che dusan vlaovic vuole solo ed esclusivamente la juventus operazione difficile giorni che saranno bollenti non caldi bollenti quelli post milan juventus per la juventus è nella condizione ovviamente di non poter mancare il piazzamento champions e se vorrà fare l'investimento e considererà questo investimento fondamentale per prendersi un posto nella prossima champions farà di tutto e di più e l'offerta da 60 milioni di euro cash e più bonus mi porta a pensare che ci sia ovviamente questa sensazione cioè di non poter rischiare e con dusan vlaovic ci sarebbe non dico la certezza ma sicuramente tante possibilità in più di poterci arrivare chiudo il giro di orizzonti con la situazione di artur melo giocatore che per quello che mi risulta o meglio forse più che mi risulta direi per le sensazioni che ho difficilmente lasciare a torino nel senso che è ovvio che lui abbia spinto il suo agente fettico pastorello in sede all'arsenal per convincere l'arsenal ad assecondare le volontà e le richieste della juventus prestito di 18 mesi con obbligo di rischiato intorno ai 45 50 milioni sarebbe la condizione che convincerebbe la juventus a far partire il giocatore ma convincerebbe la juventus e massimiliano allegri a farlo solo nel caso di degno sostituto in rosa al momento non c'è questa figura perché gli obiettivi della juventus sono due uno ampiamente ricordato che è quello di dennis zaccaria il quale però ribadisce la propria volontà di andare a scadenza per poter decidere in assoluta serenità e calma il proprio futuro alla stagione terminata su di lui ci sono diversi interessi di diversi club come vi ho anticipato e detto più volte la premier resta la sua prima opzione vediamo se zaccaria potrà essere eventualmente un giocatore da juventus ma dubito che possa esserlo nel corso di questa sessione invernale perché la volontà del ragazzo è quella di finire la stagione con il brusherment che invece gradirebbe l'eventuale uscita ora per poter monetizzare anche soli 5-6 milioni di euro la sua uscita ma ripeto se non c'è poi la volontà del giocatore che pare voler finire la stagione al brusherment non se ne farà nulla se non se ne farà nulla non uscirà nemmeno arthur nemmeno ad eventuali condizioni accettate dalla da parte dell'arsenal perché l'altro obiettivo è bruno guimaraesce ma qui sono ancora più forte nel pensare ovviamente bruno guimaraesce obiettivo diciamo svelato da parte dell'ottimo remoto agresti confermato anche da mirco di natale proprio l'altra sera ospite da lui a signora omicidi e quindi bruno guimaraesce che possa uscire ora dal lione in prestito è condizione assolutamente assolutamente impensabile e considerando che la juventus la prima opzione per questo mercato è là davanti e quindi l'investimento vuole farlo là davanti io credo a sensazione che arthur melo finirà la stagione con la juventus e poi eventualmente vediamo come andrà questa seconda parte di stagione si deciderà il mondo del calcio soprattutto è pieno di sliding doors potrebbe aver svoltato nel corso delle partite in cui è stato impiegato e che pare abbiano convinto positivamente massimiliano allegri ovviamente la parola al campo ma soprattutto all'ultima settimana quella post milan juventus che sarà una settimana incandescente sul fronte mercato soprattutto su ponda bianconera prossimamente ci dedicheremo a milan juventus io nel frattempo vi auguro una buona giornata vi do appuntamento ai prossimi tre gran minuti e come sempre fino alla fine forza juve ciao ciao